Intanto è un settore in crisi, ovviamente per tutte le motivazioni collegate al Covid, è totalmente escluso da forme di ristoro e da iniziative da parte di questo governo regionale. Intanto la denuncia, noi abbiamo denunciato che non c'è nulla per questo settore per quanto riguarda il Curabruzzo 1 e il Curabruzzo 2. 147 milioni di euro ulteriormente incrementati e che vengono anche queste dalle risorse dello Stato che la regione ha voluto rimodulare e che non ha dedicato per nulla a questo settore così colpito. In secondo luogo in finanziaria abbiamo denunciato con forza che l'emendamento che abbiamo proposto di un milione di euro con risorse cash della regione è stato respinto senza neanche discuterlo. Nel frattempo continuiamo a sottolineare come provvedimenti del tipo Napoli Calcio valgono 14,4 milioni di euro per 12 anni e molte risposte si sarebbero potute offrire. Da ultimo il totale non ascolto dei sindacati che hanno fatto tre proposte ben precise che sposiamo in pieno a partire dal nostro emendamento. Quello appunto dei ristori, quello del credito e quello degli sgravi fiscali. Nell'ultimo incontro hanno aperto a soltanto uno di questi aspetti, cioè la possibilità di accedere ai fondi di garanzia. Intanto vogliamo certezze su questo perché un annuncio come al solito col presidente Romano Marsilio non è mai una promessa mantenuta. In secondo luogo torniamo a dire che tra gli oltre 150 milioni di euro di risorse messe in campo dal Curabruzzo 1 e Curabruzzo 2 e le ulteriori iniziative non si può non prevedere un'iniziativa importante verso questo settore così colpito. In questa annualità, nel 2021, ci saranno ulteriori risorse che lo Stato trasferirà alle regioni per le mancate entrate per quanto riguarda le tassazioni che si abbassano e penso che su queste dovrà esserci una risposta forte a questo settore che noi spingiamo e per le quali faremo battaglia.